Ciao ragazzi, oggi si chiama Istanbul Guys e mi sventisco dei trick su delle mappe Adesso andiamo e vediamo se ci captano mappe con i trick o senza trick Ok, qui non ci sono tanti trick Bisogna solo fare così, così bisogna solo andare a destra Quindi non ci sono tanti trick e spero che non ci sono Qui bisogna andare tutto a destra No, beh, ci qualifichiamo, spero che ci qualifichiamo Allora, forse ci qualifichiamo, non sono sicuro Non ci qualifichiamo Vabbè, forse un'altra partita e speriamo di trovare mappe con i trick Allora, andiamo, andiamo, andiamo e vediamo Non ci sono tanti trick Ok, pain splash Non ci sono tanti trick Allora, qui forse c'è un trick Ma non lo riesco a fare Infatti non lo riesco a fare Infatti non lo riesco a fare Eh, infatti non lo riesco a fare Quindi niente Questo trick esiste ma non lo riesco a fare Non lo riesco a fare Poi il trick che fa La passante E poi il trick che fa Ah, vabbè, non ci siamo qualificati Abbiamo ritardato prima Adesso vediamo altre mappe Mito numero due Ci sarà o non ci sarà Qui ci sono Di trick Se riusciamo a andare Fino al fondo riusciamo Ok Sono proprio qua Guardate Ecco E ci colpichiamo Ed andiamo Al Mito 3 Oh, trick 3 come si chiama lì Io dico Mito Andiamo al terzo Mito Nell'ultimo round Mettete sotto nei commenti Hashtag Hashtag Miti E avete il colicino Ok Qui non ci sono particolarmente Il trick Qui si deve andare male Non a prendere Qui Questi qua Che poi rimane sempre indietro E non ti puoi riuscire Però c'è questo trick E non ti puoi riuscire Però c'è questo trick Nooo Beh Riusciamo Riusciamo Andiamo A fare un'altra partita Sperando 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 almeno Di vedere dei trick Allora Se volete altri trick che faccio Allora dovete mettere almeno 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 200 mi piace Si Non mettere ai piedi Ok Sono ultimi ma adesso adesso sono i metalli ecco che possiamo qualificare se non prendiamo i martelli ok ci siamo qualificati i miei saperi ultimi oh qua ti tricco ok speriamo di trovare in questa mappa di trick il quarto trick speriamo ok qui diciamo che ci sono dei trick allora si parte così si prende questo ok e fin qua non ci sono dei trick però vabbè la salita non riesco a farla ok ok perfetto fatto questo qui guardate andando risaltate in aria e li colificate vabbè questo lo sapete e finale speriamo di non è mai capitato che il finale questa mappa però facciamola nooo ecco guardate qui i trick aspettate che non le ho visto fare ecco nooo nooo ok ok allora altri trick vediamo altri altri trick se ci sono non ci sono ok print flash l'ho fatto prima ma non ci sono trick quindi qui il quinto trick non c'è è anche questa mappa speriamo di andare al finale e vincolo non c'è ok, perfetto solo 6 persone ok, adesso un semifinale ok ok, block dash su una abbastanza corta su block dash no ok la rischiappa la rischiappa tantissimo primavera oh no no qui non c'era una tricca comunque se volete ancora altri trick almeno almeno 100 like ci vediamo alla prossima ciao